Il vino, l'oro di Bacco, il nettare di Bacco, con il prossimo servizio andiamo a scoprire di quale cantina stiamo per parlare. Ogni bottiglia racconta un po' di noi, è questo il bello del vino. Ti emoziona con poco, ma è una storia d'arte e amore che non si dimentica. Ne sono convinti due giovani imprenditori, Gennaro Canonico e Gerardo Santoli, che legati alla propria terra d'origine si sono uniti ed hanno voluto mettere in piedi un progetto importante ed ambizioso. Attraverso la creazione del brand Canonico e Santoli, l'azienda si propone come strumento attraverso il quale fa scoprire e vivere l'Irpinia, terra ricca di luoghi di storia e di fascino, un territorio contraddistinto da una lunga tradizione vitivinicola, dove la cultura della vite è stata da sempre una delle più diffuse e l'arte del farbino è un'arte antica. Canonico e Santoli, dunque, propone attraverso i suoi grandi vini un viaggio immaginario inebriante tra i monti boscosi, le colline verdeggianti e i corsi d'acqua della terra di Irpinia, perché il vino è passione e fantasia. Ed è proprio vero il vino è passione e fantasia, storia, tradizione, cultura e di questo ne parliamo con Filippo Giannuzzi di Canonico e Santoli. Benvenuto Filippo, buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Come va, tutto bene? Buongiorno Emiliana, buongiorno a tutti. Sì, sì, tutto bene. Allora Filippo, il vino è passione, è fantasia, l'azienda Canonico e Santoli ha voluto proprio fissare nella sua mission questo, la passione in un calice di vino, la qualità in un calice di vino. Qualità è fondamentale e indispensabile perché nel momento in cui si affrontano quotidianamente i mercati nazionali e internazionali, se non hai la qualità nel prodotto, ma direi di più anche la qualità in tutta la filiera, nell'organizzazione, in tutti i passaggi che ci sono nella produzione del vino, già dalla vigna e già dal rispetto per esempio per le persone che ci lavorano, ed è un aspetto molto importante, perché adesso per esempio, c'è stata una notizia proprio recentissima, quella di un importatore americano che ha tolto dal mercato un produttore vitivinicolo italiano, perché non rispettava il lavoro degli agricoltori in vino, quindi questo è un aspetto anche fondamentale per noi. Voi siete una famiglia Filippo, possiamo dirlo? Sì, possiamo dire che siamo una famiglia perché comunque quotidianamente affrontiamo le fatiche del lavoro che c'è dietro la produzione del vino, quindi tutti uniti e andiamo a fare. Filippo, parlami un po' del vigneto, come va? Come sta andando? Questa è un'estate che è iniziata, lo sappiamo un po' tutti, con questo caldo anomalo, che per ora non dà problemi alla vigna, perché comunque grazie a Dio ci sono state un po' di piogge precedentemente, quindi la terra è ancora umida, bagnata e questo caldo sta anzi favorendo la crescita delle vigne. È ancora presto comunque per fare chiaramente un bilancio su come sarà la vendemmia 2021, però al momento le sensazioni sono molto positive. In questo anno e mezzo di pandemia è vero che si è fermato tutto, ma la terra ha continuato a svolgere il suo lavoro e a dare i suoi frutti, voi avete continuato a lavorare proprio per garantire una vendemmia eccellente, eccellente per poi produrre dei vini eccellenti di qualità. Avete qualche progetto in cantiere? Non so, vi è venuto qualche idea in questo anno e mezzo di pandemia? Cosa state pensando? Allora, la pandemia chiaramente ha tramortito tutto il settore vitivinicolo, perché soprattutto per una cantina come la nostra che lavora solo con il settore oreca, quindi con la ristorazione, con il trading relativo alle enoteche, diciamo, in poche parole non lavoriamo con la grande distribuzione, e con la distribuzione organizzata, quindi con tutto ciò che è supermercati e ipermercati. Quindi se c'è stato quotidianamente, non dico quotidianamente, ma quasi, un decreto legge che impediva alla ristorazione di ripartire, quindi di aprire e di essere operativa, tutto l'indotto relativo alla ristorazione si è fermato, e quindi anche noi i vini li abbiamo dovuti, insomma, non abbiamo potuto appunto proporli come si sarebbe dovuto. Abbiamo però attivato l'e-commerce, quindi abbiamo comunque favorito intanto le vendite nelle enoteche, laddove era possibile le enoteche, proprio parlo dell'enoteca fisica, quella dove appunto si può acquistare fisicamente il vino, le enoteche sono comunque nei limiti possibili, sono state aperte, per cui abbiamo cercato il più possibile di essere presenti in queste strutture e comunicare la nostra qualità, ed è stata appunto una strategia vincente, e poi, come dicevo prima, l'e-commerce, un nostro e-commerce dove poter favorire la vendita del vino online è stata anche una mossa, direi indispensabile. Filippo, parlami un po' dei vini, le bollicine, in modo particolare l'U-Pot, com'è? È da un po' che non lo assaggio, non lo bevo? È male, male. Ci sono novità? Dovresti assaggiarlo più presto. Eh sì, infatti, adesso ho capito, c'è stata la riapertura, quindi si può fare tutto, ovviamente con senso di responsabilità e rispettando tutti i protocolli. Infatti adesso, grazie a Dio, si sta ripartendo, si stanno, insomma, diversi clienti, sia i clienti intermedi che quelli finali, intermedi intendo appunto tutto ciò che riguarda il settore oreca, i clienti finali stanno veramente apprezzando i nostri vini, stanno apprezzando il nostro Lupo. Eccolo qua. Visto che me l'hai nominato, io ce l'ho… Alzalo un po', così facciamo vedere anche l'etichetta, va tutto al packaging. Alzalo, alza, alza la bottiglia. Eccolo qui, il Lupo, vedi, ricordiamo anche il nostro Lupo Irpino, perfetto. Bene. Si vede. Visto che me l'hai nominato, appunto, te l'ho fatto vedere per ora, poi vabbè, chiaramente avrò modo di dartela questa bottiglia, facciamo così. Grazie, accetto volentieri, così dopo l'apro con tutti i colleghi, dai. Sì, va bene. Allora, bollicini anche quest'anno? Questa è una bollicina, è l'unica bollicina che facciamo nella nostra produzione di Fiano, infatti è Fiano Brut, come si può leggere dall'etichetta, appunto, è uno spumante prodotto con uve Fiano, nella zona di Lapio, perché la caratteristica della nostra cantina è quella di fare produzione nelle zone più vocate della vitivinicoltura irpina, quindi il Fiano per la zona di Lapio, il Greco nella zona di Santa Paolina, dove c'è anche la cantina, e l'Aglianico a Montemarano, quindi la nostra produzione, come si può aver inteso, è fondata sui tre vitigni principali dell'Irpinia, quindi Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Aglianico. Filippo, con il Lupo è un bel frizzantino, una bella bollicina fresca. Il Lupo è un metodo Charmant, non è frizzante, è uno spumante a tutti gli effetti, io puntualizzo questo. Sì, sì, sì. Ci tengo che si comunichi questo, che appunto è uno spumante, non è un vino frizzante, è uno spumante metodo Charmant, con un affinamento di quattro mesi. È ottimo quindi per il brindisi, è ottimo per il brindisi, però non solo, eh. Esatto, è uno spumante che ha una spallacida molto molto importante, e questa acidità spiccata permette a questo spumante di essere abbinato a tutto il pasto addirittura. Quindi ci si può azzardare anche quando, per esempio, si invitano a cena, ci sono degli amici da invitare a cena, e non si sa che quel vino abbinare a tutto, alle varie portate, con questo spumante si può benissimo accontentare i palati di tutti e abbinare benissimo tutti i piatti. Quindi, avendo appunto questa spallacida importante, la bollicina in sé per sé poi riesce a sostenere i piatti, quelli con più grassezza, con più untuosità. Per esempio le fritture. Un bel baccalà fritto irpino, un bel, o comunque anche tutti i piatti di pesce. Con i crostacei, no? I crostacei, in Irpinia poi c'è il baccalà, la tradizione del baccalà, quindi, ma al di là dell'Irpinia, poi in tutta Italia, ogni regione in cui si vada, ci sono specialità, per cui in linea di massima questo è un vino che si può abbinare benissimo a tutte le portate. E visto che adesso ci possiamo anche riunire a casa, quindi possiamo fare anche le scene con gli amici, quindi la buona compagnia, possiamo anche berlo come aperitivo, no? Una chiacchierata prima di accomodarci a tavola, iniziare la cena. Assolutamente sì, perché comunque, pur avendo questa spalla acida, bella e importante, è un vino che ha una bellissima acidità, è però un vino che è un metodo Charmant, quindi non è un vino altamente complesso, per cui può benissimo soddisfare le esigenze di un'antre, appunto, di un aperitivo iniziale, prima di un pasto. Filippo, dalla vendemmia, che poi ci sarà, quindi dalla vendemmia 2021, nascerà un nuovo vino? Non lo so, oppure... Allora, confermiamo le linee presenti. Confermiamo la linea presente, che è quella del Fiano, del Brut, che abbiamo appena visto, poi abbiamo il Fiano di Avellino, Fermo, il Vino Fermo, il classico Fiano di Avellino di OCG, il Greco di Tufo di OCG, l'Alianico Doc, e il Taurasi di Servo di OCG. Quindi sono queste cinque etichette che abbiamo, però in cantiere ci sono delle novità, perché comunque si deve adeguare necessariamente ai mercati, soprattutto a quelli internazionali, i quali richiedono appunto delle... hanno delle specifiche esigenze, per cui si sta riflettendo in cantina, di una possibilità di lanciare un bel rosato, un vino rosato, uno spumante rosato. Non sarebbe male, infatti. Però è davvero un'idea che però non è ancora chiaramente realizzata e realizzabile nel breve. E in attesa di conoscere il rosato di Canonico e Santoli, Filippo, in chiusura, ti ringrazio innanzitutto per il collegamento. Allora, Lupo, gradazione alcolica? Siamo sui 12 gradi. Per poterlo degustare al meglio, la temperatura? 6 gradi, 6-8 gradi di temperatura. Perfetto. Ebbè, adesso che inizia l'estate... Con questo caldo... Esatto, con questo caldo è perfetto. Iniziano l'estate, iniziano le vacanze. Beh, un brindisi all'estate 2021 con Lupo. Esatto, eccolo qui. Grazie ancora e buon'estate, Filippo. Buon'estate a te, Emiliana. Grazie a te e a tutti i telespettatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.